Una richiesta assurda ed insensata. Pietro De Paola, candidato a sindaco di Uniti, rilanciamo Praia, commenta così la richiesta di ballottaggio lanciata dal gruppo La Casa dei Socialisti. La proposta del movimento politico praiese è apparsa all'improvvisa e soprattutto dieci giorni dopo le primarie, dell'11 marzo. Nello specifico, il non meglio identificato movimento socialista chiede il ballottaggio tra Pietro De Paola, vincitore delle primarie con 746 voti, e Pasquale Fortunato, secondo eletto con 498 preferenze. Questo perché nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta. Secca la risposta di De Paola. Chi chiede il ballottaggio ha detto non sa nemmeno di cosa parla. L'accordo elettorale, firmato dai quattro candidati alle primarie, non contemplava norme al riguardo. Avrei anche potuto vincere per un solo voto, le cose non sarebbero cambiate. A prendere le distanze dalle dichiarazioni del gruppo, anche Giacomo Bello, segretario zonale del Partito Socialista, nonché candidato a sindaco della lista L'Alternativa, che da subito era stato indicato come ispiratore della nota stampa. Anche l'indiscrezione che il movimento La Casa dei Socialisti fosse legato alla candidata del gruppo per Praia insieme a Maria De Presbiteris, e in qualche modo anche vicino al primo cittadino di Praia a mare, Carlo Lomonaco, è stata subito smentita.